Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Caroline Smith ha sempre raccontato la sua vita con grande umiltà, senza nascondere i momenti difficili che ha dovuto affrontare. Anche lei, nota coreografa, come tutte le persone su questo pianeta. Ha delle persone a cui tiene particolarmente, tra cui lui, dal quale non riesce a separarsi nemmeno per un momento. Questo lui è il suo inseparabile cane, Sir Scotty, che purtroppo sta attraversando un brutto periodo a causa di una grave patologia che nessuno si aspettava potesse contrarre. Le cure necessarie stanno pesando molto su Caroline. Mi affido alla collettività, tutti insieme possiamo spostare montagne. Abbiamo già portato Scotty per l'intervento e spero nella vostra positività, ha scritto la coreografa in un post sui social. Tutto andrà bene per Scotty, ha aggiunto Caroline, rivelando che il suo fedele amico dovrà sottoporsi a un'operazione per un tumore al fegato. La coreografa ha confessato che, per la prima volta, si sente molto fragile e ha chiesto ai suoi fan di supportarla in questo periodo davvero difficile della sua vita.